che è tutto in pompa ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi estrazione del contest del giveaway di paladins è estraro due persone quindi due key chiaramente il gioco è per ps4 le key andranno messe ragazzi sul riscattacodice su playstation store come se state mettendo ragazzi una playstation card diciamo così adesso chi estrarò è pregato di rispondermi qua nei commenti poi lo contatto io oppure magari mi scrive su facebook vediamo adesso come fare allora ragazzi avete partecipato più o meno in 30 persone diciamo così pochissima gente poi nessuno quasi nessuno ha visto il video purtroppo ragazzi allora andiamo subito a estrarre facciamo una cosa molto 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 veloce andiamo su pick a winner classico metodo che uso per tutti i contest mettiamo numero di vincitori 2 e mettiamo comment filter partecipo perfetto qua ci sono le persone che hanno partecipato e ragazzi andiamo a estrarre subito ok i vincitori di questo giveaway sono Federico Leone e TheGamerIta ragazzi quindi siete pregati di scrivermi qua sotto nei commenti che ci siete se non mi scrivete nulla poi rifarò chiaramente l'estrazione avete due giorni di tempo l'estrazione l'ho fatta oggi domenica invece che ieri perché ho detto magari partecipa qualche altra persona quindi ho aspettato un po' quindi ragazzi per questo video è tutto le postifico già io ragazzi ce le ho nelle mail e niente ci vediamo al prossimo video lasciate un like iscrivetevi al canale ditemi se volete altri giveaway o contest qua sotto nei commenti e lasciate un pollice in su e ci becchiamo al prossimo video bella ragazzuoli iscrivetevi al canale